Ciao e benvenuta alla nuova puntata della Priscatole. Questa settimana seguimi con attenzione perché vedrai delle scarpe nuove nuove appena arrivate con... non so varia perché... Questa settimana ti faccio vedere delle novità, delle novità in quanto scarpe che sono appena arrivate e quindi ancora non hai avuto modo di vedere. Per prima una sneaker che forse definire sneaker è poco. Allora appartiene alla nuova categoria delle sneaker con le suole alte dette anche chunky. Questa però a differenza della maggior parte di quelle che vedi è fatta in nappa morbidissima, è fatta con tutta questa infilatura di borchie, la suola viene sporcata per renderla meno violenta ed è una scarpa di una comodità direi straordinaria. che rispetta pieno i nostri canoni di selezione delle scarpe. La seconda proposta invece è particolarmente indicata alle persone che hanno i piedi freddi. Si tratta come vedi di una pedula di lusso, di lusso perché anche qui abbiamo una pelle molto morbida impunturata, vedi con le impunture, abbiamo tutti questi accessori con le pietre e abbiamo il pelo bianco, poi anche il colore stesso la rende davvero straordinariamente raffinata. E infine la terza novità è una versione rinnovata dell'anfibio. Ecco come vedi sulla base di un anfibio tradizionale sono stati inseriti queste pietre che lo rendono decisamente più femminile e oltretutto vedi anche qui c'è la presenza della doppia cerniera, 1 e 2, che rende l'usabilità davvero al massimo. Infatti c'è anche il pezzettino che blocca il laccio e quindi si può mettere e togliere con estrema facilità. Bene è arrivato il momento di andare a vedere quelle che sono le offerte della settimana e ti ricordo che saranno valide fino a lunedì 29 di ottobre e che all'esterno del nostro negozio troverai una vetrina della priscatole con anche alcune proposte da uomo. La sneaker che abbiamo visto con le borchie e con la suola alta da 279 euro la puoi avere per questa settimana 209 euro. La pedulina bianca costa 239 euro e per questa settimana la puoi avere solamente a 179 euro. L'anfibio con gli strass e le cerniere costa 259 euro e per questa settimana lo puoi avere a 194 euro. Bene, come sempre è arrivato il momento dei saluti, ci vediamo la settimana prossima e se le scarpe ti sono piaciute naturalmente ti aspettiamo il negozio per poterle venire ad acquistare. Ciao!